Il suo credo tattico e il suo Cerignola come sarà? Sarà sicuramente un Cerignola che gioca in verticale, perché è il mio credo, perché la categoria probabilmente ce lo impone e per tanti altri aspetti che poi andremo a valutare di volta in volta che la squadra verrà composta anche in base ai calciatori che riusciremo a prendere. Se hanno visto la presenza, si aspettava questa chiamata da parte del Cerignola? È stata sorpresa o no per lei? Non me l'aspettavo perché, come vi ho detto prima, anche se ho una conoscenza da anni con il direttore, non si è mai parlato di questo aspetto, di questo punto di vista. La situazione si è creata nel momento in cui il direttore ha avuto la percezione, la sensazione che il progetto potesse cambiare, nel senso che doveva essere riformato e lui ha visto in me la persona, la figura con quelle qualità che potesse portare avanti questo nuovo progetto. Grazie a tutti.